Oggi in Commissione di Vigilanza ho portato il tema dei lavoratori delle menze dei quattro ospedali di Teramo. Parliamo di oltre 77 lavoratori che quotidianamente producono 2100 pasti per gli oltre 700 malati della provincia di Teramo. Questi lavoratori vivono situazioni molto critiche, molto difficili, hanno avuto stipendi arretrati per tanti mesi così come ferie non godute per tanti mesi, condizioni di lavoro davvero difficili e stipendi che non arrivano ai 900 mila euro. Oggi abbiamo ascoltato il direttore dell'Asra di Giosia così come i rappresentanti sindacali e l'assessore regionale Verì. Ci hanno assicurato che queste criticità termineranno quanto prima, soprattutto dopo il 28 di questo mese e quando si apriranno le buste per la nuova gara di affidamento di questo servizio. Ci auguriamo che queste criticità possono terminare al più presto poiché i lavoratori soffrono questa vicenda da diversi anni e soprattutto nella fase di pandemia hanno assicurato sempre il proprio lavoro e il proprio servizio. Quindi un grande grazie va ai 77 lavoratori delle nostre menze e ci auguriamo che prestissimo le loro difficoltà, le loro criticità possono terminare così come oggi assicurato in commissione dall'assessore Verì e soprattutto dal direttore di Giosia. Da anni lavoratrici e lavoratori subiscono ingiustizie, ritardi col pagamento degli stipendi, mesi e mesi di ferie arretrate e appunto il non rispetto di quelli che sono i diritti basilari dei lavoratrici e lavoratori. Abbiamo fatto uno sciopero a metà dicembre proprio sotto l'assessorato della sanità a Pescara, abbiamo più volte manifestato e più volte enunciato la nostra contrarietà alla gestione di questo appalto pubblico e rimarcato come un appalto pubblico non possa avere come criterio ormai continuativo quello di non pagare lo stipendio e oggi abbiamo ribadito qual è l'importanza di un appalto pubblico e cosa poi comporta gestire un appalto pubblico con le regole e con il rispetto di quelli che sono i diritti principali. Speriamo appunto di essere arrivati e comunque di aver vinto finalmente questa estenuante battaglia e di non dover più vedere una situazione, perpetrarsi di situazioni del genere.